Credo che il nostro territorio oggi abbia bisogno di un riconoscimento valido, quello dei servizi sociosanitari nel territorio, quello del sociale, è un momento secondo me importante per riconoscere all'ASL il valore aggiunto. La richiesta è quella di riconoscere la specificità dell'ExSULS 15 in tema di servizi sociali, un settore del quale l'azienda sanitaria dell'Alta Padovana deteneva le deleghe dal 1990. Gli incontri tra i sindaci e la regione stanno dando i loro frutti. Dopo l'incontro che abbiamo fatto con i sindaci a San Giorgio in Bosco, dove abbiamo espresso le nostre opinioni rispetto a questo importante tema, la regione abbia preso coscienza e insieme troveremo sicuramente la soluzione. Secondo Bolis l'esperienza dell'ExSULS 15 ha lasciato un'eredità composta da tanti aspetti positivi che potrebbero essere estesi anche al resto della regione. Siamo l'unica realtà che ha questo tipo di modello, quindi va difeso, addirittura a mio parere potrebbe essere esportato. Oggi con questo modello l'azienda risparmia, i cittadini hanno dei servizi migliori, non ci sono liste d'attesa rispetto ad altri territori, penso ai disabili, penso ai minori, quindi credo che sia un modello sicuramente da esportare e da proporre anche a altre ASL. Grazie a tutti.